C'era attesa per la sentenza che vede alla sbarra la cosca crea di Rizziconi implicata nell'operazione Deus. Ieri è arrivato il verdetto del processo di primo grado celebrato davanti al collegio del Tribunale di Palmi, dove ha visto 5 condanne e 8 assoluzioni. Il processo nasce dall'inchiesta della distrettuale antimafia di Reggio Calabria nel giugno del 2014, dove determinante sono state le dichiarazioni dell'ex sindaco di Rizziconi, Antonino Bartuccio. Una sentenza che però ridimensiona il castello accusatorio della pubblica accusa. Dei 120 anni complessivi chiesti dalla procura con il PM Luca Miceli, gli anni sono stati ridotti a 47 totali. Il boss Teodoro Crea, detto il Toro, classe 39, è stato condannato a 20 anni di carcere. Al figlio Giuseppe sono stati inflitti 19 anni e 8 mesi, a Maria Grazia Alvaro 2 anni e 4 mesi di reclusione, mentre a Clementina Burzi 2 anni, a Domenico Russo 3 anni a fronte dei 10 chiesti dal pubblico ministero. Sono stati invece assolti l'altro figlio, Domenico Crea e Antonio Crea. Assolti pure Teodoro Crea, classe 67, nipote del boss, Marinella Crea, Girolomo Cutri, Giuseppe Osvaldo Lombardo e Vincenzo Tornese. C'è da dire che molti di questi imputati sono stati condannati anche in altri processi e filoni d'inchiesta scaturite da altrettante operazioni della DDA Regina. L'operazione Deus, condotta dalla squadra mobile di Leggio Calabria e coordinata dalla DDA Regina, è scattata il 4 giugno 2014. In particolare l'attività investigativa ha evidenziato l'assoluta egemonia della Cosca Crea, esplicata sul territorio come una vera e propria signoria feudale, sia nell'esercizio delle tradizionali attività criminali che nel totale condizionamento della vita pubblica, tanto da determinare nel 2011 lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rizziconi. La caduta del Consiglio Comunale di Rizziconi aveva attaccato il PM Miceli nella requisitoria d'accusa nel corso del processo e la cartina di tornasole di questa terra. Ma è anche la storia di un uomo coraggioso e integerrimo, l'ex sindaco Antonino Bartuccio aveva aggiunto il PM, che dimostra come si possa vincere opponendosi ai mafiosi. Da quel momento l'ex primo cittadino vive sotto scorta insieme alla sua famiglia. Il quadro che emerge dall'inchiesta ci riporta al Medioevo, quando era il Signore a decidere della vita e della morte dei propri sudditi. Era stato anche l'amaro commento dell'ex procuratore capo Federico Caffiero de Rao, ora responsabile nazionale dell'antimafia, illustrando i particolari dell'operazione Deus. E i crea in effetti controllavano tutto, decidevano tutto, gli appalti, i lavori, le politiche, le scelte, addirittura le persone che dovevano sedere o meno nelle istituzioni comunali. Ieri la sentenza un po' ridimensionata per molti imputati.